amici e guardoni degli scacchi ben ritrovati oggi abbiamo una interessante analisi uno studio interessante per la nostra rubrica dei problemi di scacchi in particolare qui sulla scacchiera abbiamo una posizione che all'occhio inesperto incluso il mio non dice niente ma all'occhio esperto per l'occhio esperto questa posizione ha un nome si chiama la posizione di lucena questo lucena era un giocatore spagnolo del quindicesimo secolo del quattrocento uno dei primi teorici degli scacchi fosse il primo teorico degli scacchi che scrive delle cose scrive per esempio repetition de amores y arte de adres quindi ripetizione di amore di amori e arte degli scacchi che esce a salamanca nel 1497 sono gli anni appena successivi alla scoperta dell'america gli anni della come dire che preparano il secolo d'oro del dominio spagnolo nel mondo va bene ed è il primo testo a stampa della storia degli scacchi questo testo repetition de amores y arte de adres ora la posizione di lucena non è propriamente studiata almeno secondo la voce wikipedia non è propriamente studiata in questo trattato ma è una posizione che prende il nome da questo teorico spagnolo che ha un paio almeno diciamo di caratteristiche fondamentali posizioni di lucena sono quelle posizioni siamo in un finale vedete rimane re re torre torre e un pedoncino in più ma non basta questo per rendere una posizione posizione di lucena ci vuole anche qualche cosa d'altro cioè in particolare il re della parte forte della parte che ha il pedone in più bianco in questo caso deve occupare attenzione che questo qui è fondamentale deve occupare la casa di promozione del pedone vedete in questo caso che il nostro re se ne sta bello bello qui vedete uh cosa schiacciato qua se ne sta qui in d8 tiene occupa occupa la casa non tiene occupa la casa di promozione del pedone un'altra caratteristica delle posizioni di lucena è il fatto che la torre taglia fuori il re della parte avversaria in realtà queste sono le due caratteristiche fondamentali ma se noi andiamo a vederci la voce di wikipedia che spero che vediate perfetto tra le altre cose dice il pedone non deve essere sulle colonne a o h e questo è abbastanza intuitivo forse torniamo di là intuitivo forse perché nella pratica di gioco lo sapete quando uno ha i pedoni passati nelle colonne a oppure h si sa che è un lavoro un po più perverso promuovere il pedone mentre se il pedone sta nelle colonne che non sono diciamo di lato nei due lati la cosa diventa più agevole quindi queste sono le condizioni di base della posizione di lucena è una posizione vinta per il bianco in questo caso diciamo vinta per la parte che ha il pedone in più ci sono due metodi per vincere questa posizione di lucena li vediamo penso sia una cosa interessante perché come dire è importante conoscere queste cose dei finali a volte capitano non sempre no le partite finiscono nel medio gioco tante volte uno va nel finale e quindi bisogna sapersi muovere anche nel finale tra l'altro ne approfitterò per ripassare insieme a voi come si dà matto con re e torre contro re che è una cosa che io ho imparato e mi ha giovato tantissimo posso dire con buona approssimazione che se uno sa dar matto con re e torre contro re ecco può superare uno scaglione grosso diciamo nella sua nella sua crescita scacchistica io direi che se stiamo con la mente su quanto accade in chess.com io direi che per passare i mille due mille tre andare verso i mille quattro mille cinque è una cosa che uno deve imparare a fare quando io non ero capace a farlo mi ricordo che un sacco di partite che sarebbero vinte però io non riuscivo a vincere quindi finivano in parità quindi tanto vale ripassare anche questa cosa è importante saper come dare matto a me non è mai capitato di dover dare matto con re e due alfieri contro re oppure re cavallo e alfiere contro re quali sono lavori molto più difficili ma re e donne e re e torre contro re è una cosa abbastanza facile vale la pena di ripassarla detto tutto questo incominciamo vi ricordo di mettere like iscrivoli al canale commentare se volete pigiare sul bottone del super grazie potete farlo anche se non potete detrarre la donazione dalle tasse io credo e incominciamo primo metodo il primo metodo consiste nel trasferimento della torre nell'ultima traversa per tenere la casa di promozione del pedone io ho preso queste cose da un po di manuali che sto spulciando tra cui scacchi for dummies che è buono per il giocatore principiante io mi considero un principiante avanzato al massimo ecco almeno cronologicamente cioè non ho appena appena principiato a giocare sono già alcuni anni che gioco con esiti dubbi ma va bene diciamo il primo metodo è questo qui torre in a1 perché torre in a1 la torre in a1 si prepara per trasportarsi per trasferirsi nell'ultima traversa il nero potrebbe avvicinarsi col re re in f7 torre a8 ecco questo è il tipo di manovra che bisogna fare ora la torre tiene il pedone cioè la casa di promozione del pedone qui la filosofia qual è? è quella di togliere il re spingere il pedone e promuovere ok? qui sta al nero il nero deve muovere vabbè se viene avanti col re con re e 6 per fare pressione sul pedone qui si frega da solo e penso che vediate perché perché io posso fare io cioè il bianco può fare re e 8 e adesso la torre nera non può più dare scacco vedete perché il re nero paradossalmente fa scudo al re bianco e la prossima si promuove perciò più sensata è perdere un tempo con la torre per esempio torre c1 per mantenere sempre il controllo comunque su queste case di modo che il re bianco non possa uscire e a questo punto il bianco giocatore c8 contesta il controllo della colonna c al nero se il nero cambia naturalmente la partita è persa perché presa presa si promuove il nero si sposta giocatore d1 per far pressione sul pedone e qui c'è l'ultima fase torre c7 il re si sposta libera la casa per consentire la promozione torre c1 scacco re b6 e adesso qui si continua a dare scacco questa maniera qua fino a che il re non attacca la torre la torre si deve spostare e il bianco promuove e vince vedete è diciamo la manovra è intuitiva una volta che uno la conosce poi diventa intuitiva ricapitoliamo da principio primo punto occupare la traversa dove promuove il pedone secondo punto contestare una colonna per far uscire il re far uscire il re e andare col re addosso alla torre perfetto questo è il primo metodo che è quello meno famoso però il metodo più famoso è il metodo del ponte la parola viene da Aaron Nimzovic adesso andiamo a vedere che cos'è questo ponte che in realtà è un concetto del diciamo di disposizione dei pezzi che bene tenere a mente perché può capitare che sia utile insomma adesso vi faccio vedere siamo di nuovo nella posizione di partenza la nostra posizione di lucena vedete c'è il re che occupa la casa di promozione del pedone la torre bianca che taglia fuori il re nero metodo precedente abbiamo visto consisteva nel portare la torre in fondo il nostro secondo metodo quello un po più così un po più raffinato il metodo della costruzione del ponte funziona così in primo luogo abbiamo questa mossa che sembra molto curiosa che è torre f4 diciamo vi anticipo visto che non è un giallo si possono anche fare degli spoiler l'idea sarà di di fare il ponte che vuol dire proteggere il pedone da dietro con la torre ok e con il re così ora uno potrebbe domandare ma vabbè ma perché non metto subito la torre dietro il pedone il motivo è questo direi ok vabbè c'è sempre ma però torre f1 poi manda via re però vedete che così il re non esce per cui se io ciondolo avanti e indietro per dire no così siamo in una posizione da cui non si esce benissimo quindi si gioca torre f4 il nero perde un tempo giocatore c1 per tenere quantomeno il re tenere il re lì dove sta ecco il re viene fuori gioca si gioca re e7 scacco subito no devo dare scacco per impedire al pedone di spingere di promuovere qua se il nero gioca un'altra mossa qui il bianco spinge promuove il pedone finita no quindi scacco e il re viene su re d6 scacco attenzione questa è una mossa molto delicata non bisogna levarsi e lasciare la difesa del pedone se no cade il pedone è finita la storia questa è una partita che finisce in parità bisogna essere precisi qua bisogna giocare re e6 scacco e adesso si può giocare re d5 scacco torre d4 così si è costruito il ponte vedete eccolo qua questo qui è il ponte che consente al pedone di arrivare sano e salvo sull'altra riva vediamolo da capo ancora una volta torre f4 qui la filosofia qual è? mettere la torre in quarta cioè mettere la torre a due case di distanza opla a due case di distanza da dove si allora con queste cavolo di cose due case di distanza da dove si trova il pedone il re esce sopporta pazientemente gli scacchi vedete perché adesso che è in qua perfetto che è in d6 non si può ancora coprire con la torre vedete quindi si deve perdere un tempo andare in d6 scacco adesso si viene in d5 e così e questa è la costruzione del ponte vedete che la promozione del pedone non può essere arrestata altro metodo per vincere quando si ha una posizione di lucena già che ci siamo immaginiamo questo immaginiamo di promuovere a torre come si vince? questo è il finale adesso io non sono preciso io non sono un maestro sono uno spingilegno no? ok però per chi di voi non sapesse vincere con il bianco questa posizione a me ripeto capitato tante volte ho dovuto studiare come fare bisogna la filosofia qui qual è? bisogna mettere il re nero contro un bordo della scacchiera sia qui o sia qui o dove comunque contro il bordo ok? e bisogna poi guadagnare l'opposizione col nostro re per dargli matto dunque vediamo nella pratica sta al nero no? il nero cosa può fare? viene ad attaccare la torre ok? benissimo io giocherei così io giocherei torre di 5 potrebbe non essere la più precisa ma non importa nella mia mente cosa visualizzo? visualizzo che questa torre taglia la quinta traversa quindi il re è bloccato qua è bloccato qua dentro è bloccato nelle ultime tre traverse adesso dovrò fare in modo di ciao allora dovrò fare in modo di come dire spingerlo sempre più verso il bordo scacchiera vediamo viene su se ne deve andare ok? e io faccio così perdo un tempo vado via con la torre se lui viene di qua gli do scacco vedete ecco questa è la posizione fondamentale il re ha l'opposizione quindi tiene queste tre case la torre prende la traversa e il re deve andare indietro è importante torniamo indietro un minuto è importante saper perdere un tempo con la torre perché se io gli do scacco lui potrebbe venire di qui e non va in giù bisogna riuscire a coordinare re e torre in modo da avere quello che abbiamo visto prima quindi io perdo un tempo con la torre se lui viene di qua gli do scacco e lo spingo giù se lui invece va di là io lo inseguo fino a che è necessario che si raggiunga questa posizione cioè lui viene di fronte al mio re io ho l'opposizione scacco e deve andare giù su col re adesso di nuovo lo rincorriamo attacca la torre io me ne vado via lui se ne va io vengo di qui ecco vedete di nuovo ho l'opposizione scacco e va giù e andiamo giù col re bisogna sempre avanzare con la torre ma indietreggiare con la torre tagliare via via una traversa per volta e qui di nuovo mettiamo che lui va ad attaccare la torre io posso anche perdere un tempo subito perdiamo un tempo si può fare come si vuole ecco ok no qui ho sbagliato non importa va bene lui mi corre dietro di qua però io vengo di qui ecco così no così va bene se viene qui ecco così è matto vedete bisogna avere pazienza e capire questo questo sistema di coordinazione di re e torre cioè riuscire a perdendo tempi con la torre riuscire ad arrivare in questa posizione qua cioè far sì che lui ti venga di fronte col re l'opposizione sapete quando c'è una casa no una casa di distanza lui muove tocca a me muovere io ho l'opposizione vuol dire che il mio re come una calamita polo positivo no respinge il suo re che è polo positivo anche lui aspetta i due poli dei magneti che si respingono a vicenda è quasi dal matto così adesso io lo spiego in modo molto maldestro però ecco c'è un algoritmo per così dire per raggiungere il matto con re e torre contro re è bene saperlo perché altrimenti oltre a un certo livello ve lo assicuro per esperienza personale oltre a un certo livello poi di punti giocando anche online non ci arrivate perché quando siete a 1.800 uno che un giocatore mettiamo no siamo arrivati siamo arrivati qui ecco se siete contro un 1.800 il nero abbandona ma se siete un 1.200 contro un 1.200 il nero va avanti a giocare perché spera che voi non sappiate come dargli matto dovete imparare a dargli matto restringere il re guadagnare l'opposizione spingerlo giù e procedere sempre di nuovo con lo stesso procedimento va bene cari ecco questo era tutto quello che avevo da dirvi sulla posizione di Lucena e su quanto ne consegue fate molto i bravi ecco basta e ci aggiorniamo con il prossimo video ciao cari grazie a tutti